buongiorno ciao a tutti e benvenuti a una nuova diretta dedicata al mondo del gatto oggi come sempre aspettiamo che iniziano a collegarsi le persone alla diretta nel frattempo mi presento velocemente mi chiamo simona bosio e sono consulente felino ovvero aiuto i proprietari che hanno piccoli problemi di gestione del loro gatto come pipì in giro per casa oppure problemi di convivenza tra due o più gatti e mi occupo anche di educazione del cane e tolettatura cane e gatto oggi facciamo una diretta dedicata a viaggiare con il gatto prendendo in esame questo argomento sia dal punto di vista comportamentale quindi per avere a cuore diciamo il benessere del gatto durante un viaggio sia dal punto di vista proprio come trasportare il gatto quindi un punto di vista un po più tecnico allora aspettiamo un attimino che arriva qualcuno ok vedo che iniziano a arrivare persone intanto sistema anche le videocamere intanto vi ricordo che durante la diretta potete ovviamente commentare farmi domande chiedere cose specifiche e purtroppo per un problema di facebook non sempre vedo i commenti se vedete che scrivete qualcosa e non vi rispondo significa che probabilmente non posso vedere quel commento ma vi risponderò in un secondo momento sotto nei commenti direttamente quindi abbiate fede che prima o poi avrete una risposta anche se purtroppo durante la diretta a volte non mi vengono visualizzati vedo che ci siamo ci sono un po di persone collegate quindi possiamo iniziare a parlare di come viaggiare con il gatto allora prima di tutto come può viaggiare il gatto ecco parliamo prima dell'automobile ovviamente dopo magari facciamo un cenno anche su altri mezzi di trasporto in automobile come deve viaggiare il gatto forse lo saprete già lo spero sinceramente il gatto non può assolutamente essere lasciato libero all'interno dell'abitacolo questo perché oltre essere contro la legge illegale proprio è pericolosissimo il gatto a differenza del cane che può essere tenuto semi libero con la cintura di sicurezza sul sedile posteriore oppure libero all'interno del bagagliaio ecco a differenza del cane il gatto non può essere trasportato in questa bagnere in auto perché come ben capirete il gatto può sgusciare da tutte le parti e sarebbe un pericolo altissimo per chi è al volante e quindi scordatevi l'idea di tenere il gatto libero oltretutto ecco questo particolare non è contro la legge diciamo ma ve lo aggiungo se il gatto sta male durante il viaggio e lo avete lasciato libero all'interno dell'abitacolo e magari vomita oppure va in dissenteria o inizia a fare pipì per la paura ecco avrete una macchina con odorini non tanto piacevoli e sostanze da pulire altrettanto spiacevoli quindi come deve essere trasportato il gatto a proposito scusate del cane sappiate che ieri abbiamo fatto la diretta dedicata al cane sempre a viaggiare con il cane quindi se foste interessati c'è la diretta sul canale youtube di ieri torniamo al gatto come deve essere trasportato il gatto all'interno di un trasportino definito anche kennel quindi avete presente la tipica gabbietta con cui ci portiamo a casa il gatto la cosa migliore secondo me è scegliere un trasportino che non sia una di quelle gabbie tutta a rete in rete metallica che quindi il gatto vede completamente fuori e può essere molto più spaventato rispetto a un trasportino di quelli in plastica che in gran parte è plastica e poi c'è soltanto una graticola all'apertura davanti che si apre la porticina quindi il gatto si sente molto più al sicuro a mio avviso all'interno di un trasportino di plastica che è chiuso su tutti i lati tranne che all'apertura appunto con la grata poi sugli altri lati ci sono delle piccole aperture delle fessure per far girare l'aria ovviamente però il gatto si sente molto più al sicuro più chiuso all'interno di una tana diciamo così perciò trasportino assolutamente ci sono diversi tipi di trasportini anche per solo questa tipologia possiamo metterlo nel sedile posteriore spesso lo teniamo anche sul sedile anteriore per avere il gatto un po più sotto controllo che magari si calma vedendoci anche se tenerlo sul sedile posteriore è sicuramente più sicuro in caso di incidente e anche la robustezza la struttura del trasportino ce ne sono di diversi tipi si va da quelli più economici a quelli invece un po più costosi ma perché sono stati testati certificati attraverso dei test nuovi crash test eccetera che quindi garantiscono una maggiore sicurezza e ovvio che poi dipende dall'incidente ragazzi se capita qualcosa di grave il gatto non si salva neppure all'interno di un super trasportino in titanio però ecco scegliete voi se andare sul modello più economico un modello un pochettino più robusto e dove lo posizioniamo abbiamo detto meglio sedile posteriore magari fissato proprio dalla cintura di sicurezza sconsiglio il bagagliaio perché a differenza del cane che spesso invece viene trasportato all'interno del bagagliaio il gatto si sentirebbe fin troppo spesato a stare lì dentro ecco con tutto buio nel senso che non vede niente non vede voi non vede nient'altro e a me non è mai capitato non lo farei sinceramente quindi sedile posteriore è la scelta migliore in assoluto come preparare il gatto per abituarlo ai viaggi in macchina ovviamente con un cucciolo potremmo avremo modo di abituarlo fin da piccolino e potremmo avere dei buoni risultati quindi un cucciolo che viaggia in macchina tranquillamente senza particolare paura se invece abbiamo un gatto adulto magari otteniamo dei miglioramenti ecco però non ci aspettiamo i miracoli come ben sappiamo se si inizia un'abitudine da cucciolo è molto più semplice impararla per chiunque anche per noi persone piuttosto che da adulto purtroppo ci manca un elemento fondamentale con il gatto a differenza anche con il cane perché io dico sempre la cosa più importante di tutte è non portare sempre l'animale che sia cane o gatto in macchina per andare dal veterinario e basta quindi un condizionamento un'aspettativa negativa cioè vado in macchina per andare da quel tizio lì che mi buca mi fa male mi manipola tutto eccetera purtroppo con il cane si può fare cioè prendiamo il cane magari lo mettiamo in macchina e andiamo al parco con il gatto no perché prendiamo il gatto e dove andiamo non possiamo certo portarlo al parco o in qualche altro posto anche perché i gatti si stressano a passare da una casa all'altra anche se non vogliono andare da qualcun altro perciò come abituarlo partiamo proprio dall'inizio comunque prendiamo il trasportino che abbiamo scelto di acquistare lo mettiamo in casa aperto con la graticola aperta chiuso già chiuso cioè chiuso nel senso montato con la graticola aperta come ho detto e lo lasciamo in una zona tranquilla di casa all'interno ci possiamo mettere diverse volte durante la giornata a scelta uno snack possiamo metterci la ciotolina dell'umido in modo che il gatto vada a mangiare all'interno del trasportino una spruzzatina di erbagatta spray un giochino all'erbagatta come i cuscinetti di erbagatta che io utilizzo tantissimo oppure un giochino del gatto che lui ama particolarmente come anche solo quelli fai da te le palline di alluminio gli scontrini arrotolati come mi usano tanti alcuni clienti dicevo qualcosa di piacevole la cosa migliore è collegare proprio il trasportino a qualcosa di piacevole per il gatto perciò cibo o gioco sostanzialmente coccole no perché non ci entriamo anche noi dentro al trasportino e lo lasciamo a disposizione allora se abbiamo una casa grande dove il trasportino non ci dà fastidio il trasportino può restare a disposizione del gatto sempre cioè funge un po' da cuccia possiamo anche togliere la graticola che magari ci andiamo a sbattere camminando però possiamo usarla proprio come cuccia in questo modo il gatto lo collega proprio a una cosa non solo piacevole ma proprio familiare un'abitudine è sempre lì ci va dentro ci dorme ci gioca c'è l'erba gatta con un stimolo positivo e lo vede come una cosa molto molto a lui familiare e quando dovremo chiudercelo dentro per portarlo in macchina non sarà questo gran trauma ok questo prima fase seconda fase mettercelo dentro il gatto perché spesso mi dicono le persone mamma mia quando devo metterlo dentro il gatto faccio una fatica ok allora sempre meglio riuscire a far entrare il gatto quindi se non abbiamo fretta di mettere dentro il gatto perché abbiamo i minuti contati e cerchiamo di non averli comunque noi prendiamo per dire quello che ho detto prima o uno snecchino che è la cosa più veloce oppure il cuscinetto di erba gatta lo mettiamo dentro al trasportino il gatto è già abituato che ci entra appunto con queste cose qua durante i giorni normali in cui non ci deve non deve poi fare un viaggio in macchina quindi entra nel trasportino e noi chiudiamo dietro l'apertura la porticina la fissiamo e basta siamo a posto abbiamo già finito se invece il nostro gatto è furbissimo ha capito che lo dobbiamo portare dal veterinario ha osmato qualcosa e quindi lo vediamo che sul chi va là e non ci entra c'è una piccola tecnica che quasi sempre funziona ovvero si prende il gatto si gira in retromarcia diciamo e lo si fa entrare nel trasportino di sedere e quindi a quel punto abbiamo il gatto dentro con una mano quindi lo teniamo dal petto e con l'altra mano possiamo chiudere la porticina perché è più facile inserire un gatto di sedere piuttosto che farlo entrare da davanti perché il gatto quando cerchiamo di forzarlo con la testa rivolta verso l'apertura del trasportino fa così non mi vedete bene però allarga le zampe anteriori si fissa sui lati del trasportino e noi non riusciamo a incastrarlo dentro invece appunto inserendolo di sedere non ha modo di fare proprio questa operazione qua cioè le zampe posteriori non riesce ad allargarle per tenersi ai bordi del trasportino e noi quindi riusciamo a ficcarlo dentro e a chiudere la porticina anche se aveva capito che era la volta buona che doveva essere chiuso dentro al trasportino perciò questa piccola tecnica segreta mi raccomando tagliate le unghie prima il gatto se è un tipo a cui non piace entrare nel trasportino se anche così non riuscite ultimissima cosa che potete fare è questa prendete un asciugamano avvolgete il gatto in particolare la testa cioè che non vede quello che succede all'interno dell'asciugamano mi raccomando non soffocatemi il gatto ragazzi deve soltanto essere preso e non vedere cosa succede lo mettete dentro il trasportino chiudete e poi magari con un pezzetto di mano o le dita lo aiutate a togliersi l'asciugamano di dosso e avete concluso anche qua questa è una tecnica veramente per quei gatti che facciamo davvero tanta fatica a metterli dentro al trasportino e comunque resta valida la regola che anche una volta messo nel trasportino a forza perché non ci è entrato una spruzzatina di erba gatta all'interno del trasportino assolutamente diamogli anzi una bella spruzzata esagerata che così si ripiglia ecco dal piccolo trauma e lo facciamo viaggiare un po' più sereno perciò ripetiamo trasportino sempre a disposizione se riuscite è meglio cose piacevoli all'interno del trasportino quando davvero dobbiamo metterci in viaggio mettiamo dentro il gatto utilizzando uno di questi sistemi che ho appena descritto e poi che cosa fare una cosa che faccio personalmente e consiglio è di coprire il trasportino nel momento in cui dobbiamo andare da casa alla macchina dalla macchina magari all'ambulatorio veterinario o dove dobbiamo portare il gatto con un lenzuolo un lenzuolo normale prendiamo un lenzuolino quello da bambini ovviamente non il lenzuolo del letto matrimoniale ci facciamo un buco per la maniglia e glielo mettiamo sopra in questo modo oscuriamo la vista al gatto di mondo esterno magari ci passa vicino un cane e non facciamo in tempo a vederlo il cane abbaglia dietro il gatto sarebbe un casino se succede qualcosa di traumatico la volta dopo il gatto mamma mia collega il trasportino ha qualcosa di bruttissimo e abbiamo rovinato tutto il nostro lavoro perciò il lenzuolino sopra mi ha quando non una coperta perché non dobbiamo tappare il gatto dentro che poi non respira un lenzuolo che copre abbastanza la visuale sia del gatto all'esterno ma anche degli altri del gatto all'interno appunto cani persone fin troppo curiose che vengono lì a guardare chi c'è dentro il trasportino che non va bene il lenzuolo ci permette di mettere al sicuro il nostro gatto senza per questo tapparlo dentro quindi non far più girare l'aria perché il lenzuolo è di cotone traspirante perciò lenzuolino prendiamo sul nostro trasportino e via andare in macchina fissiamo il gatto dove dobbiamo andare un'altra cosa che si può fare per ovviare al problema che come dicevo prima a differenza del cane che lo posso portare in luoghi piacevoli come il parco il gatto non posso portarlo in nessuna parte di piacevole sostanzialmente possiamo usare un piccolo stratagemma se vogliamo abituare il nostro cucciolo a essere trasportato in macchina piacevolmente facciamo tutto questo che vi ho appena detto lo mettiamo in macchina Michela io se dovessi viaggiare devo affittare un camion e vabbè 10 gatti sono 10 gatti ragazzi 10 trasportini uno sopra l'altro a quel punto nel bagagliaio e li fissi no scherzo non puoi uno alla volta o due alla volta al massimo sui sedili posteriori torniamo a noi dicevo un stratagemma è questo mettiamo il gattino nel trasportino con tutte queste cose lo mettiamo in macchina facciamo un giro più o meno lungo 10 minuti un quarto d'ora andiamo al mcdonald a prenderci caffè brioche e torniamo a casa quindi dal momento che per il gatto il proprio territorio è il luogo più piacevole del mondo noi lo riportiamo nel proprio territorio ovviamente non è che dobbiamo farlo ogni giorno come il cane che ha più spesso bisogno di viaggiare eccetera però se una volta alla settimana riusciamo a farlo ecco il gattino o magari più assiduamente i primi mesi di vita è il gattino in cui il gattino è molto aperto di mente e abbiamo una finestra di apprendimento molto forte quindi il gattino apprende che è una bella cosa viaggiare in macchina perché poi si torna a casa come ho detto poi diradate ecco diradate questo esercizio magari una volta al mese così giusto per tenerlo allenato tornate a casa togliete il lenzolino aprite la gabbietta e date immediatamente qualcosa di molto piacevole al gatto una volta tornato a casa quindi facciamo un super collegamento piacevole vai in macchina magari ti agiti un po' se è un po' a disagio poi torni nel tuo territorio che è il posto più bello del mondo per te gatto e in più ti do anche qualcosa di piacevole che può essere un momento di gioco cinque minuti di gioco insieme un momento di coccole se abbiamo un gatto coccolone il cibo umido se abbiamo un gatto golosone una stecchetta snack se è anche qui goloso di queste cose insomma troviamo quello che piace più al gatto da dare come premio al termine di un viaggio che lo ha riportato semplicemente a casa questo lo so che richiede un impegno cioè ovviamente tutti capisco perfettamente il problema del tempo da un momento che ho anche due bambini piccoli però se riusciamo a farlo ripeto quando il gattino è piccolo ci perdiamo io un po' di tempo un po' di impegno avremo un gatto adulto che poi quando invece è ora di andare al veterinario si sentirà tranquillo quantomeno durante il viaggio poi una volta che si arriva al veterinario erba spray erba gatta spray a go go ve la portate dietro ogni tanto ogni 5 minuti vi date una spruzzatina così si perde un po' via nella fragranza dell'erba gatta e magari sta un po' meglio anche dal veterinario perciò questo per quanto riguarda il viaggio in macchina ah ecco distinguiamo questo per abituare il gatto al trasportino però se abbiamo un gatto che è già adulto e sta male oppure anche un gattino che comunque proviamo a portarlo in macchina e sta male quindi mal d'auto nel gatto intanto come si presenta come per il cane ci sono diversi livelli di mal d'auto si va dal dalla semplice agitazione al miagolio possiamo arrivare anche al gatto che cerca di evadere dalla gabbietta tirando forte con le unghie addirittura si stacca l'unghia vecchia da quanto tira forte il gatto fino a le cose peggiori ovviamente sciallorrea cioè salivazione eccessiva vomito dissenteria pipì addosso allora se finché abbiamo un gatto che miagola possiamo o appunto cerca di uscire dal trasportino con le unghie ma senza dare fuori di matto possiamo intervenire solo con incondizionamento positivo quindi anche se è gatto adulto possiamo cercare di riabituarlo con tutto quello che vi ho detto durante la prima parte del video se abbiamo un gatto invece che si fa cacca ad osso pipì ad osso vomita non riesce veramente lo vediamo che è in fortissimo stato di agitazione allora lì è molto probabile che solo il condizionamento positivo non funzionerà non ci darà miglioramenti sufficienti per avere poi le viaggi in macchina sereni e allora ci dobbiamo rivolgere al veterinario anzi no prima potremmo provare i rimedi naturali contro lo stress che sostanzialmente per i viaggi in macchina sono l'erba gatta spray quello che ho già detto comunque è un ottimo rimedio naturale contro lo stress possiamo aggiungere il pet rescue remedy che però è un rimedio che tendenzialmente ha effetto sul lungo periodo cioè se dobbiamo fare un viaggio lungo sono fiori di bac comunque per chi si chiedesse che cos'è una boccettina i fiori di bac si mette nell'acqua o direttamente in bocca e aiuta la serenità la tranquillità nell'animale il problema cos'è può essere utilizzato per viaggi lunghi se sappiamo che dobbiamo andare in vacanza da qualche parte e il viaggio durerà più di un paio d'ore allora può essere utile ma bisogna iniziarlo almeno due settimane prima a somministrare al gatto tutti i giorni per poter avere un buon effetto poi durante il viaggio perciò non è così scontato un'altra cosa che si può utilizzare è il pet remedy invece in questo caso che è uno spruzzino a base di valeriana molto puzzolente alcuni gatti lo amano particolarmente una spruzzatina piccola all'interno del trasportino però sappiate che poi la puzza un po' si potrebbe sentire altrimenti dicevo se il gatto è particolarmente agitato veterinario il veterinario perché magari con un aiuto farmacologico più il condizionamento positivo possiamo ottenere degli ottimi miglioramenti mentre solo col condizionamento positivo non ne avremo perché il gatto sta proprio male fisicamente e allora lì l'unico che può davvero aiutarci è il veterinario con una terapia farmacologica valutiamo noi insomma se il nostro gatto lo vediamo che sta veramente male in particolare fisicamente veterinario assolutamente ok aspetate che ah ecco una cosa che so che fanno in tanti durante il viaggio se si può aprire il trasportino e infinare dentro la mano per coccolare il gatto allora ovviamente come potrete immaginare è un pochino pericolosa questa cosa perché perché intanto la gabbietta ha questa griglia rigida che quindi come la apriamo è un attimo che se il gatto dà una botta la apre tutta e riesce ad uscire quindi io dico sempre dipende dal gatto ragazzi se sappiamo che abbiamo un gatto veramente tranquillo ci fidiamo tantissimo anche se andiamo a infilare dentro la mano sappiamo che non è che cerca di evadere come una saletta un'anguilla fuori allora possiamo anche farlo altrimenti è meglio di no infiliamo piuttosto un dito all'interno della gratticola anche due così gli facciamo due grattini così sulla testa intanto leggiamo mi sono collegata ora come si può fare per un trasferimento aereo tra circa un anno ci trasferiremo a Fuerteventure sono molto preoccupata per i miei quattro gatti no proprio giovincelli vanno dai 9 ai 16 anni acciderbolina allora per l'aereo finiamo di parlare prima della macchina e poi affrontiamo altri tipi di veicoli e estero ok ciao Sofia non ho capito di cosa si tratta dimmi di che cosa esattamente non hai capito che lo rispiego nel frattempo andiamo un attimino avanti ecco altra cosa quanti gatti scusate all'interno di un solo trasportino un solo gatto domanda risposta secca un solo gatto perché i trasportini spesso non sono particolarmente grandi i gatti spesso non amano stare insieme in uno spazio stretto perciò un gatto per trasportino però è ovvio ci può essere quelle eccezioni due gatti che si vogliono un bene infinito e se li mettiamo in due trasportini diversi stanno in pena solo perché sono divisi e allora magari può esserci l'eccezione però è veramente un'eccezione assolutamente se no un gatto per ogni trasportino ok vediamo che cosa mi sono segnata dimensione del trasportino se avete un maincoon di sicuro non potrete andare a prendere un trasportino economico perché i trasportini economici un po' come le lettiere le lettiere economiche i trasportini economici sono piccoli sono pensati per quei gatti che c'erano un tempo tutti più o meno dalla stessa dimensione tutti più o meno magri e normotaglia adesso che ci sono i mencoon ci sono i siberiani che anche loro si cerca di farli sempre più grossi perché grosso è bello dovrete andarvi a cercare se avete un gatto grosso oltre i 6 chili diciamo così 6-8 chili oltre questa taglia andate a cercarvi un trasportino grande no? piccolo il gatto comunque deve starci comodo è vero che il gatto piace stare come se fosse all'interno di una tana ma nemmeno deve stare così tipo sardina all'interno del trasportino mi raccomando ultima cosa si riguardo al trasportino e quindi al viaggio in auto come ci si regola con cibo acqua e bisogni del gatto bisogna distinguere allora se ci spostiamo per breve periodo quindi entro le due ore il gatto assolutamente non avrà bisogno né di bere né di mangiare né di fare i propri bisogni a meno che non li fa perché sta male lì un discorso un po' diverso invece al di sopra delle due ore dobbiamo conoscere il nostro gatto ci sono gatti che magari vogliono mangiare qualcosa che so se facciamo un viaggio di sei ore magari qualche snecchino qualche crocchettina la mangiano volentieri e non stanno male magari ci fermiamo dopo otto ore lo facciamo girare un po' per l'abitacolo mi raccomando chiuso tutto bene chiuso che nessuno apra le portiere per sbaglio in quel momento cioè barricatevi dentro la macchina col gatto dicevo lo facciamo uscire per sganchire un po' le zampe perché cioè non può stare sei ore all'interno di un trasportino così comodamente facciamo sgranchire magari proviamo a proporre qualche crocchetta una ciotolina d'acqua da cui bere e esistono delle lettiere piccoline appunto da viaggio che possiamo proporre anche lì al gatto magari lo facciamo uscire così che è tranquillo gliela mettiamo lì sul sedile posteriore se vuole utilizzare la sabbietta la usa altrimenti no è molto probabile che la maggior parte dei gatti non userà la sabbietta non mangerà e non berrà l'acqua perché comunque il gatto a differenza del cane non è abituato a uscire si sente quasi sempre a disagio essere fuori casa sua fuori dal suo territorio e riesce a tenersela per tanto tempo ripeto se non sta male e riesce a trattenersi dal bere dal mangiare anche qui per tanto tempo cioè parliamo anche di viaggi lunghi 12 ore il gatto spesso e volentieri non ha nessun problema a tenersi tutto bisogni fisiologici per 12 ore o più poi quando arriverete qua si parla di solito di vacanze ovviamente non di veterinario o altro quando arriverete nella casa vacanza sistemate il gatto con tutte le sue cose e farà tutto quello che deve fare però ripeto se il viaggio inizia a durare 3 ore o più ogni 2-3 ore ci fermiamo e permettiamo al gatto di uscire 10 minuti fuori dal trasportino stando attenti a non farlo uscire fuori perché sarebbe una tragedia e gli proponiamo appunto lettiera cibo e acqua tutto qua quindi questo ecco ultima cosa vedo questa la vediamo dopo cioè come far uscire poi il gatto dal trasportino nel posto nuovo mi sembra di aver detto tutto sul viaggio in auto se ci sono commenti intanto controllo o domande sul viaggio in auto scrivetemi Sofia non vedo se mi hai scritto una specifica per la tua domanda di prima se vuoi scrivimi che ti rispondo invece parliamo di altri mezzi di trasporto quindi parliamo di autobus nave treno e aereo intanto anche qui ovviamente sicuramente il gatto va nel trasportino e non mi interessa se avete un gatto a cui avete insegnato ad andare al guinzaglio perché perché il problema può essere non il vostro gatto che è abituato ad andare al guinzaglio abituato a seguirvi al bar andare anche in mezzo alla gente ma magari ci arriva il cane che insegue i gatti e li sbrana e magari non ce ne accorgiamo e ci arriva addosso all'improvviso perciò assolutamente nel trasportino quando si viaggia anche se poi lo portate in giro a spasso col guinzaglio ok per sapere bene le condizioni che mettono ciascun mezzo di trasporto dobbiamo chiedere direttamente a chi gestisce quella linea di autobus quel treno quella nave e quell'aereo perché ognuno ha le sue condizioni particolari ad esempio sull'autobus c'è un tot di animali che può essere trasportato sulla nave sicuramente c'è una limitazione anche di questo genere se non addirittura c'è uno spazio preposto per gli animali oppure devi pagare il biglietto sino dipende da quanti sono ognuno ha le sue in aereo vabbè il gatto in aereo non ha il problema di dover essere trasportato in stiva come il cane di sicuro può venire in cabina con voi ma di solito ovviamente è uno per persona fino a un tot di chili anche qui probabilmente vale anche per il gatto e ognuno ripeto ognuno ha le sue condizioni specifiche quindi prima di partire assolutamente vi informate su quello specifico mezzo di trasporto che cosa richiede anche in termini di salute vaccini e quant'altro che poi vediamo serve anche per l'estero intanto leggo Maria Grazia io ho quattro gatti che da quando li ho cinque anni fanno tutti i viaggi con me e ogni due tre ore mi fermo e lascio liberi sanno sete o fame e aspettate hanno una lettera dove fanno i bisogni quando ripartono sono tutte nelle loro gabbette perfetto Maria Grazia fai esattamente la cosa giusta come abbiamo appena spiegato bravissima invece Cristina tornando un attimo a te appunto devi assolutamente informarti bene per il viaggio in aereo dei tuoi quattro gatti giusto sì come funzionano le cose se dovete essere una persona per ciascun gatto se possono viaggiare in cabina con quale costo anche ovviamente il lato economico eccetera eccetera tutto il resto dei consigli resta invariato cioè lenzoro sul trasportino trasportino di una taglia adeguata ovviamente per i viaggi in su mezzi di trasporto che non siano la propria macchina non possiamo non abbiamo mai momenti in cui il gatto può uscire dal trasportino a sgranchirsi le zampe e lì per forza di cose cercate di non fare spesso questo tipo di viaggi lunghi cioè fatevi soltanto se veramente vi dovete trasferire in un altro paese altrimenti evitate di farli fare al gatto e e ripeto ah ecco erba gatta sfrai scusami e basta stare molto attenta che non escano mai dal trasportino per sbaglio perché magari vogliamo infilare la mano noi eccetera e sentire il veterinario se hai paura che possano veramente stare molto male se c'è qualche accompagnamento farmacologico che lui ti possa consigliare assolutamente io non ne ho le competenze per questo tipo di aiuto però ecco informati molto molto bene su che cosa richiede la compagnia aerea specifica del volo che devi prendere te allora Cristina ma il viaggio aereo non li fa star male nel decollo e atterraggio no come per noi non cambia niente gli animali noi cani e gatti siamo tutti mammiferi possiamo stare male come possiamo non accorgercene neppure su quello non ho statistiche rilevanti ecco a volte il viaggio in macchina specialmente nei cani perché appunto i gatti vedono poco l'esterno una volta che posizioniamo il trasportino sul sedile posteriore c'è la parte delle portiere che copre l'esterno il gatto vede più o meno solo l'abitacolo mentre il cane che se non è di microscopica taglia da media taglia in su vede fuori dal finestrino il mondo passare in questa maniera qua a volte il cane si agita e poi sta male per questo motivo perché lo mette in agitazione vedere il mondo che passa così e non capisce perché per come vede in questa maniera qua strana il problema è che con quattro gatti ci toccherà metterli in stiva Cristina io ti dico che conosco personalmente un paio di persone che hanno fatto più viaggi più viaggi in aereo per poter trasportare i gatti non in stiva ma in cabina lo so questo ovviamente è una scelta personale però io conosco persone che l'hanno fatto pur di non metterli in stiva li tenevano in cabina ma hanno dovuto fare più di un viaggio poi ovviamente nella casa dall'altra parte c'era qualcuno che se ne occupava mentre loro tornavano in Italia prendevano gli altri e arrivavano con gli altri e lì dovete decidere voi decidere te ovviamente poi invece che cosa ci manca da dire dicevo stessi accorgimenti quindi erba gatta go go che aiuta il gatto a stare un po' più sereno e non potrà utilizzare invece lettiera acqua e cibo possiamo dare qualche crocchetto qualche snack all'interno della gabbietta acqua già viene molto più difficile comunque ripeto il gatto intenzialmente già di suo non è un animale che beve tantissimo perciò ecco può durare tranquillamente un viaggio senza senza bere e invece cos'altro vi volevo dire ecco per ovviare al problema che il gatto potrebbe farsi addosso pipì e cacca o vomitare per il maressere mi raccomando durante i viaggi su qualsiasi mezzo di trasporto pacchetto di salviette sempre a portata di mano non finite che oddio dove sono i fazzoletti che poi sono secchi e non è che aiutano granché magari la bottiglietta d'acqua da versare sui fazzoletti un casino no salviette puliamo il gatto al meglio che si può e poi quando arriviamo a destinazione laviamo proprio il gatto con l'acqua shampoo a secco spazzo e quant'altro seconda di quanto si è vonciato poverino però mi raccomando le salviette non devono mai mancare salviette umidificate in un viaggio con il gatto perché può sempre succedere perché non possiamo dire al gatto guarda vai a fare la pipì nella lettiera che tra poco partiamo e stiamo via sei ore quindi falla subito no non lo sa quindi se noi partiamo che il gatto gli scappa anche magari non per il malessere del viaggio ma proprio perché la deve fare potrebbe farsela addosso quindi prevediamo anche questo quindi dicevo stessi accorgimenti per l'auto salvo il fatto che il gatto non potrà uscire dal trasportino e che dobbiamo informarci assolutamente per ciascuna compagnia cioè ogni mezzo ha le sue condizioni specifiche che cosa ci richiede quel mezzo di trasporto per poter trasportare il nostro gatto i nostri gatti poi per l'estero allora per l'estero sicuramente beh in generale quando viaggiamo con il gatto è bene portarci dietro i documenti sanitari quindi il libretto sanitario con le vaccinazioni quant'altro segnato e sapete che da quest'anno è obbligatorio anche il microchip adesso non ho ben capito se è diventata già legge o che cosa però facciamo microchipare i nostri gatti dai che se mai facciamo le corna dovesse qualcuno scappare fuori anche solo di casa e ce lo ritrovano leggono il microchip e capiscono subito di chi è il gatto perciò microchip bisogna portarsi dietro come per il cane anche il documento di iscrizione anagrafe anagrafe felina giusto sì perché è quello appunto il documento dove c'è scritto che quel tal microchip è intestato a noi e il libretto sanitario quindi se qualcuno poi chiede questi documenti mentre siamo in viaggio con il nostro gatto noi siamo in grado di fornirli e non rischiamo nessun tipo di multa per l'estero dicevo nello specifico anche qua stesso discorso dei mezzi di trasporto ogni paese ha le sue condizioni perché entrino animali domestici solitamente che tutte le vaccinazioni siano in regola il cane ha anche delle limitazioni più grandi diciamo per alcune razze e alcuni poi chiedono l'antirabbica se non il titolo anticorpale della rabbia eccetera il gatto dovrebbe avere semplicemente le vaccinazioni a posto però ripeto chiedete proprio informatevi sul paese dove dovete andare non fidatevi del veterinario non fidatevi del cugino dell'amica di quella che ha gatti da tutta la vita chiedete a un ufficio proprio preposto per quel paese lì per andare in quel paese lì che cosa serve perché sennò rischiate di avere problemi semplicemente ci vuole anche l'antirabbica per i cani ma sai che mi dovrei informare su questo argomento Michela perché mi sembra di no però mi informerò e ve lo scriverò sicuramente nei commenti visto che è una cosa interessante e non mi è venuto in mente di informarvi prima me lo segno e vediamo di capirlo perché per quanto ne so l'antirabbica per i gatti non non è neppure consigliata mai però informiamoci che si impara sempre qualcosa di nuovo poi vi dico sempre che non sono veterinaria quindi alcune cose le so però giustamente su altre ho delle lacune anche io nell'ambito veterinario se no facevo veterinaria però appunto ripeto mi informerò invece invece ultima cosa di cui parlare vediamo anche che ore abbiamo fatto ok come gestire l'arrivo nel posto nuovo del gatto se andiamo in un posto come veterinario il tolettatore niente di che cioè stiamo attenti che il gatto non scappi quando una volta che apriamo la gabbietta erba gatta spray portiamocela sempre dietro che male non fa spruzzarne una spruzzatina ogni tanto e basta cioè tutto lì perché poi ovviamente la visita dal veterinario al tolettatore non sarà piacevole per il nostro gatto però ogni tanto bisogna far soffrire anche i nostri animali domestici invece se dobbiamo andare in una casa vacanza o un trasferimento un trasloco quindi definitivo come accogliere il gatto nella nuova casa dipende dal gatto ci sono alcuni gatti che mi dicono i proprietari apro il trasportino il gatto esce ma come se fosse sempre stato lì come se fossi vissuto in quella casa inizia a girare per casa la marca tutta strofinandosi con le guance dove vi ricordo ci sono i feromoni di familiarizzazione che usano tanto per l'ambiente e per marcare anche noi persone quando ci fanno le coccole quindi girano per tutta casa come se niente fosse acqua fresca proprio il trasloco iniziano ad usare da subito la sabbietta mangiano bevono dormono basta a posto così se invece vediamo che il nostro gatto fa fatica ad ambientarsi quindi fa fatica a uscire dal trasportino resta sempre guardingo cammina soppiatto per tutta la casa si va a nascondere nella stanza più buia di solito la camera da letto sotto al letto sotto un armadio insomma un posto buio è stretto dove posso stare tranquillo allora le cose cambiano un po' allora mettiamo il gatto in una sola stanza possibilmente quella che ha scelto cioè noi apriamo il trasportino mettiamo il trasportino a terra e lo apriamo e lasciamo che il gatto decida di uscire quando esce verifichiamo se si ambienta velocemente oppure se si va a nascondere nel caso in cui si vada a nascondere scegliamo la stanza dove è andato a nascondersi come stanza iniziale lo chiudiamo dentro con tutte le sue cosine e lo teniamo lì due tre giorni tranquillo così che lui inizia a esplorare quella stanza e prende confidenza con quel singolo ambiente senza avere tutta la casa a disposizione che potrebbe essere un grosso disagio per il gatto trovarsi in un ambiente così grande da dover rimarcare tutto col suo odore eccetera eccetera le altre cose che possiamo fare è sicuramente farlo giocare fargli le coccole quindi dedicargli del tempo a lui ecco per farlo lasciare un po' andare erba gatta spray quello che ho già detto prima ormai l'erba gatta spray me la userete a litrate proprio e altra cosa ancora che possiamo fare molto utile è prendere un panno un panno nuovo di qualsiasi tipo di cotone lo strofinaccio gli asciugamanino del bagno non mi interessa lo strofiniamo sulla zona delle guance dove ci sono i baffi del gatto per prelevare i famosi feromoni di familiarizzazione li preleviamo per bene un po' energicamente li ostrofiniamo qua poi andiamo nel resto della casa e passiamo questo straccetto asciugamano che abbiamo scelto sui mobili di casa sulle pareti proprio del muro in modo da far andare il suo odore in tutta la casa prima ancora che lui ci intri e possa esplorarla dopo due tre giorni invece apriamo la porta lasciamo all'interno di quella stanza lì iniziale le sue risorse quindi ciotole lettire tiragraffi cuccia che possiamo usare anche il trasportino giochini quant'altro le lasciamo lì dentro per una settimana all'incirca e qui appunto però apriamo la porta il gatto può uscire e una volta al giorno ripetiamo questa cosa qua del panno quindi passiamo il panno e lo strofiniamo in giro una volta passata una settimana il gatto è esplorato magari è venuto dal letto a dormire con noi eccetera eccetera allora possiamo anche spostare le sue risorse quindi prendiamo la lettiera la mettiamo dove dovrebbe stare il tiragraffi le ciotole eccetera eccetera perciò facciamo facciamo una cosa un po' graduale soprattutto se appunto parliamo di una casa vacanza dove ci stiamo tanto tempo oppure di un trasloco in modo da avere poi un gatto che si è abituato tranquillamente ed è felice di stare in questa nuova casa ultimissimo appunto in particolare per la vacanza se dobbiamo andare in vacanza con qualcuno che ha un altro gatto meglio in una casa di solito che ospita già un altro gatto se andiamo da parenti solitamente da amici oppure che deve esserci anche un altro cane un cane in casa insieme al gatto e non si conoscono già dipende dal periodo se il periodo di vacanza o di trasloco quel che l'è è lungo faremo un inserimento graduale specifico con tutti i passaggi ho fatto una guida che trovate sul sito dedicata all'inserimento di un gatto con altri gatti quella con un cane devo farla appena un po' di tempo la scriverò comunque potete sempre chiedermi una consulenza se vi servisse dicevo quindi se il periodo è lungo facciamo un inserimento e facciamo conoscere gli animali tra di loro gradualmente se invece parliamo di una settimana non si conoscono cioè teniamo il nostro gatto chiuso in una stanza passiamo tanto tempo insieme a lui appena possibile e basta cioè non pensiamo che il gatto soffre per una settimana che se sta in una stanza è meglio questo tipo diciamo di sofferenza piuttosto che tenerlo libero in tutta la casa con altro gatto o altro cane che non vanno d'accordo e quindi vengono fuori brutte situazioni conflitti inseguimenti soffi graffi eccetera eccetera mi raccomando quindi su questa cosa qua sto controllando se ci sono altri commenti non ne vedo e vi ricordo che se ne avete scritti e non li vedo è proprio un bug di facebook vi risponderò in un secondo momento direttamente sotto nei commenti mi sembra mi sembra che abbiamo detto tutto quindi il video mi sembra che è stato anche abbastanza interessante mi informerò sul vaccino dell'antirabbica perché questa è una cosa interessante su cui non sono informata e vi farò sapere sotto con un commento se ci sono domande dell'ultimo momento scrivetemelo adesso o ci sentiamo la prossima settimana nella prossima diretta io vi ricordo di seguire anche il canale youtube lo trovate andando su youtube cercando simona bosio oppure play dog and cat con la e commerciale e niente mi sembra che abbiamo detto veramente tutto per oggi e allora io vi saluto e ci vediamo settimana prossima sempre giovedì alle due e mezza per la prossima diretta dedicata al mondo del gatto ciao ciao tutti e buona serata